Salve, grazie a me, alla sinistra Paolo Veronesi, presidente della fondazione Umberto Veronesi, che ha promosso... Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Beh, diciamo che il mio rappresentare un po' un esempio per i ragazzini è veramente un onore oggi, anche perché io sono qui a rappresentare la mia generazione, la generazione dei giovani del 2010. E questo essere contro il fumo è veramente molto importante, perché voglio far capire ai ragazzi che hanno dei sogni come me, che i loro sogni possono essere considerati da quello che fanno oggi, dal loro presente. Quindi chi fa sport, chi canta, chi suona, insomma, se fumate sappiamo ragazzi che sarà un fumo e che il fumo può provocare i gravi malattie. Quindi mi raccomando, seguite la fondazione Veronesi del progetto No Sbocchi in Be Healthy, che è veramente una cosa fantastica. Sto lavorando con loro con grandissimo entusiasmo, perché mi appartiene molto come spirit. Grazie a voi.